Aeroporto di Peretola, sabato pomeriggio, non ci sono tanti voli in arrivo, magari la situazione potrebbe cambiare se davvero ci sarà l'ampiamento della pista che però per il momento pare congelato. Che tipo di ricaduta economica ci sarà allora su chi lavora sul famoso indotto dell'aeroporto? I dipendenti di Toscana Aeroporti non hanno l'autorizzazione a parlare ma insomma abbiamo comunque scambiato due parole con tassisti, autisti, gente che intorno a Peretola ci gravita dal mattino alla sera. Se non fanno l'ampiamento della pista pensi di avere un danno per la tua attività? Sicuramente il danno è anche per la città, notevole perché sicuramente se una persona parte da Roma come si è verificato spesso e viene dirottato a Roma è assurdo. Quindi secondo me l'ampiamento ne va per migliorare i servizi per i turisti, poi per noi è un dramma perché non c'è parcheggio nell'aeroporto, ci tocca stare qua due ore e aspettare una persona che magari arriverà da Pisa con un bus, i disagi sono notevoli. Io penso che comunque Firenze sia una città importante nel panorama degli aeroporti italiani, quindi secondo me, a mio parere, va comunque ampliata la pista e comunque essendo una città importante, come dicevo prima, va assolutamente reso come un aeroporto europeo. Anche Firenze merita il suo podio, il suo giusto posto, il riconoscimento, assolutamente sì. Penso che sia un problema per la città, più che per noi. Però insomma arrivano meno voli quindi... Ma no, cioè, bene o male chi vuole venire a Firenze viene a Firenze. È una parte di problematica che si creerà per chi non potrà venire perché magari non c'è una pista adeguata. Il futuro implica trasformazione, anzi la storia lo dice, chi si adapta, chi si trasforma, migliora tutto. Non credo che sia una questione simplemente perché i taxisti o NCC, cioè è tutta la città che ha dei vantaggi. Ovviamente hai che fare dei sacrifici, non credo che sia facile accettare anche certi cambiamenti. Fa pena che questa burocrazia succeda in Italia. Ancora si discute per una pista quanti anni sono? Tanti, tanti. Tanti. Se fa un tramvia è un problema, se vuole fare un stadio adatto per il 2020 è un altro problema. Credo che chiunque vive in questa città vuole il meglio. Il meglio è la trasformazione. Una pista, questo è un aeroporto che deve essere trasformato completamente, ma non per il benessere di un gruppo di persone, uno che lavora qui. Cioè per tutti, per tutti.